cosa c'è di nuovo nel nuovo SUV Seat Ateca e cosa c'è di diverso rispetto alla concorrenza europea giapponese o coreana insomma perché scegliere Seat Ateca le do 60 secondi per rispondere il cronometro parte adesso prima di tutto è un disegno Seat che viene da barcelona allora quello che abbiamo visto sulla Leon l'abbiamo portato anche in questo segmento del mercato secondo è la tecnologia che uno trova in questa macchina è veramente completa allora da una top camera da un controllo di velocità in traffico da un caricatore di telefoni senza cavi dalle assistenze di parcheggio autonome è una macchina completa e poi dentro ha la funzionalità la grandezza il comfort e la dinamica su strada seat ha una dna che le macchine non solo sono belle ma si devono comportare bene sulla strada allora anche qui niente compromessa comfort un SUV ma la sportività di una seat grazie prego grazie agli